L'Istituto Superiore di Sanità è un'istituzione che già da tanti anni collabora con i comuni italiani proprio per promuovere la salute e prevenire le malattie. Quindi il nostro impegno sarà quello di contribuire da un punto di vista scientifico sia alla raccolta di alcune informazioni che possono essere molto importanti per capire qual è la situazione appunto nelle città che rappresentano ormai un luogo dove tanti cittadini vivono e sarà importante insieme costruire un percorso e degli indicatori che possano aiutarci per azioni di prevenzione e promozione della salute.